Sicuramente non abbiamo fatto una gran partita perché il risultato questo lo dice. Andiamo a fare i complimenti all'Intel e invece noi potremmo fare sicuramente meglio. Sul primo rigore ho voluto abbracciare la maglia perché era successo un fatto a Torino che era stato malinteso. Quindi ci tenevo molto a dare un segno a tutta la tifoseria. Invece sull'altro rigore l'ho sbagliato e mi prendo le mie responsabilità e adesso dobbiamo lavorare per la spalla.